Cosa sto? Sì, a me ci siamo! Ciao, ciao! Ma che meraviglia! Che studio! Ma fino almeno! Non hai anelli? Allora, muovetevi! Aspettiamo l'anello! E' il brillocchio! Comunque, non sono dei miei brillocchi che si deve parlare, Caterina! Parliamo dei brill... Oh, che scarpe meravigliose! Però ora mi distraggono con questa cosa! Si cazzo, no? Sono bellissime, Sherima! Sono di glitter! Cosa sono? No, no, sono pagliettine! Ah, a proposito, scusami un attimo, Lady Diana ci perdonerà questa cosa! Ha detto la Clerici che quest'anno vuole partecipare... Ah, la Clerici? Quando parliamo di lei c'è un fidanzato! Ma questa è un'altra rubrica, ne parliamo in un altro momento! Antonella, lui vuole parlare solo di Belen! Perché non vuole parlare di te? Ha detto la Clerici che quest'anno lei vuole partecipare a Miss Piedino d'Oro! La Clerici? Sì, perché ha detto... No, Antonella! Come mai lo vince sempre Caterina? Non lo so! E io le ho detto, guarda... Facciamo vedere i piedi così? Non lo... Ecco, vedi già! Così cominciamo, perché Antonella io non posso perdere l'unica fascia che mi hanno dato in questi anni! Eh, Antonella non posso!